gentili telespettatori buona giornata giorgia meloni in un'intervista a milano finanza dice lo stato deve difendere con forza tutti gli asset strategici su deve controllare e proteggere tutti i gioielli italiani l'italia deve farsi trovare pronta per la fine della pandemia con un assetto economico finanziario e politico funzionale alla ripresa e alla competizione per questo ragiona giorgia meloni presidente di fratelli italia il suo partito farà di tutto affinché vengano tutelati gli interessi nazionali e gli asset strategici del paese a cominciare da borsa spa e finendo con lo strategico mercato telematico dei titoli di scato di stato mts da poco passato sotto l'egida di cdp euro next di questo e molto altro parla la leader del partito all'opposizione del governo draghi in una lunga conversazione con mf che sarebbe milano finanza la prima domanda il presidente meloni fratelli d'italia all'opposizione del governo draghi da oltre 100 giorni sempre convinta della scelta o si aspetta che presto la raggiunga salvini dice viviamo un tempo nel quale nulla sembra più essere dato per scontato in una nazione democratica il parlamento è composto da maggioranza e opposizione in base a quanto deciso dai cittadini alle elezioni in questa legislatura abbiamo assistito al nascere e al perire di tre governi tutti sostenuti da maggioranze differenti compartiti che durante la campagna elettorale promettevano agli elettori di combattersi a vicenda con ricette politiche totalmente differenti il tutto grazie a un sistema elettorale studiato per garantire l'instabilità nel 2018 fratelli d'italia è scesa in campo dicendo agli italiani mai col partito democratico mai col movimento 5 stelle per noi la parola data ha ancora un valore sono sempre più convinta della scelta che abbiamo fatto per noi è inconcepibile governare con chi ha reso la vita impossibile alle imprese alle famiglie italiane non so che cosa faranno gli alleati posso solo dire che noi continueremo a fare una posizione puntuale e responsabile senza sconti portando in parlamento le nostre ricette per l'italia che sono patrimonio comune di tutto il centrodestra l'italia affronta la sfida più difficile chiede il giornalista uscire e ricostruire l'economia il lavoro in un certo senso la società ci riuscirà grazie al recovery plan secondo lei e giorgia meloni risponde così il recovery plan è soltanto uno strumento a disposizione e come tale e neutro dipende dall'uso che se ne fa per ricostruire la nuova economia bisogna riformare tutto il sistema italia mettendo al centro due pilastri fino ad oggi presi di mira dalla sinistra famiglie e imprese abbiamo il disperato il bisogno di mettere in condizioni i giovani di lavorare creare ricchezza e fare figli il recovery plan è un'occasione se gli investimenti vanno in questa direzione se le infrastrutture che verranno costruite faranno da volano alla nostra economia valorizzando il made in italy per farlo occorre radicalmente cambiare paradigma mettendo al centro le pmi che sono il mezzo attraverso cui si esprime il talento italiano se si continua a massacrare il nostro tessuto produttivo per favorire le multinazionali e i grandi agglomerati finanziari rischiamo che il recovery diventi un investimento oneroso e sconveniente poi il giornalista gli chiede lei si sta occupando di molti dossier finanziari come la nuova borsa dopo l'aumento di capitale l'italia con cdp e intesa alla maggioranza relativa di euronext come dovrebbe farsi valere ora dice facendo valere il suo peso un'operazione finanziaria di una portata simile ha senso se all'investimento corrisponde una congrua presenza nel management invece ora ci ritroviamo con la massiccia presenza di manager francesi in società controllate da piazza affari come ad esempio mts la piattaforma attraverso cui passa il debito pubblico italiano questo è un aspetto molto critico perché di fatto la gestione del debito nazionale passa in mano francese faccio io una domanda a parti invertite i francesi avrebbero mai consentito una cosa del genere rispondo io ovviamente che no il giornalista poi chiede ma a novembre ci sarà un nuovo piano industriale il primo con borsa e nessun italiano ha ruoli operativi nel gruppo come dovrebbe muoversi cassa depositi e prestiti per arrivare forti a questo appuntamento e lei risponde che la domanda fotografa una situazione già vista il nome dell'europa e delle logiche del mercato unico vengono acquisiti asset strategici italiani e noi perdiamo la capacità di influenzarne le politiche di sviluppo che impattano direttamente sulla nostra economia e sul nostro paese il caso citato dice giorgia meloni è emblematico e accende il faro anche su chi in italia permette che si verifichi una situazione del genere mi aspetto che il ministro dell'economia franco intervenga assieme a cassa depositi e prestiti per correggere questa evidente distorsione la la diciamo che l'intervista è molto lunga e fa capire anche come giorgia meloni sia ferrata anche in economia nel senso che è una è una politica a tutto campo nel senso quanti politici avrebbero potuto rispondere a queste domande ben precise che di solito sanno e conoscono solo gli economisti questo fa vedere che è una persona che studia 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 ecco una domanda che gli fa poi dice che cosa pensa dello stato padrone di come si sta muovendo il governo draghi lei dice i romani dicevano è una frase in latino ovvero la società lo stato siamo noi e così dovrebbe essere oggi ma oggi invece lo stato è diventato un'entità estranea ai cittadini nella migliore delle ipotesi ci troviamo in una fase storica in cui lo stato entra pesantemente nella vita degli italiani entra nei conti correnti impone l'utilizzo della moneta elettronica per monitorare le spese mette sotto assedio le imprese con una burocrazia che rende loro la vita impossibile mentre permette a entità finanziarie estere di banchettare indisturbati sulle infrastrutture strategiche drenando risorse dall'economia reale vessa famiglie e imprese riducendone sempre di più la libertà durante questa crisi sanitaria abbiamo assistito a provvedimenti assurdi come ad esempio il famigerato coprifuoco imposti con l'intento di educare il cittadino e quindi io non voglio uno stato che mi educhi che stabilisca quando posso uscire di casa o quali attività possono rimanere aperte e quali no io voglio uno stato che mi spieghi quali sono i rischi che dia protocolli chiari e validi per tutti in questo senso il governo draghi si sta muovendo in perfetta continuità con il governo conte quando hai la sinistra grillo piddina che ha la golden share della maggioranza in parlamento non può essere altrimenti dice giorgia meloni io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti